buongiorno in questo video vorrei parlare un po della dipendenza affettiva ma soprattutto della distinzione tra amore autentico e amore malato partiamo da questo concetto che quando una persona diventa importante e arriva a toccarci nell'intimo la nostra psiche collega questa persona ad un momento significativo del momento di crescita e di maturazione di noi stessi perciò pian piano questa persona diventa una presenza interna ora per la psicanalisi ogni volta che noi costruiamo una relazione con gli altri creiamo l'immagine dell'altra persona secondo il nostro modo di essere quindi ogni relazione è un po come una nuova conversazione con noi stessi non a caso lacan diceva che amare significa donare quello che non sia a qualcuno che non lo vuole era molto ironico e però capiamo bene come la dimensione relazionale è in particolare la dimensione erotica è una pienezza dolente una pienezza dolente che pretenderebbe di riempire un vuoto questa sarebbe la pretesa di una relazione d'amore infatti non a caso i filosofi dicono che l'eros costituisce una irruzione di intensità del vuoto e ogni relazione è appunto una promessa di totalità una promessa di assoluto ma ma dovremmo sapere che l'esperienza affettiva vive e si alimenta di ciò che accade in noi dentro di noi per cui l'amato diventa una figura che ci spinge alla ricerca di una verità interiore ecco perché come dice gibran l'amore vero è uno stare soli che trabocca questo sarebbe l'amore vero e c'è una sottile differenza tra amore sano amore sano amore vero e amore malato alcune persone si ostinano a inseguire l'altro che incarna un'utopia e appare seducente perché rappresenta la forza di una promessa che ci dà l'illusione di poter realizzare ogni nostra aspirazione facciamo però una differenza l'amore sano designa uno spazio circolare tra me e l'altro nel quale io sperimento il meglio di me stesso il vero amore tira fuori il meglio di me mentre l'amore malato tira fuori il peggio è violento per la psiche corrode l'autostima è un amore che vive e si nutre del bisogno di voler possedere l'altro dovremmo ricorderci che noi in genere siamo mossi dal desiderio di essere desiderati dagli altri vorremmo essere desiderati degli altri perché per vivere bene abbiamo bisogno di essere riconosciuti e apprezzati per la nostra unicità per le nostre potenzialità nelle relazioni d'amore sane l'altro evoca in noi un nuovo essere e non vuole possederci piuttosto si offre a noi e tira fuori da noi qualcosa di nuovo perciò grazie a lui o grazie all'altro o lei è come se fossimo più di prima cresciamo possiamo pian piano dare di più quindi cresciamo ci evolviamo ecco che possiamo dire che dopo un incontro importante non siamo più quelli di prima non siamo più uguali a prima e non torneremo più come prima in quanto ci siamo arricchiti quindi l'incontro amoroso sano è qualcosa che dilata la nostra identità la risveglia donandoci il coraggio di guardare finalmente in fondo a noi stessi perciò possiamo dire che attraverso l'altro accediamo ad una parte più vera e profonda di noi il guaio arriva quando questo dono ci viene sottratto ci viene sottratto soprattutto quando non lo abbiamo fatto nostro quindi non abbiamo assimilato le nostre nuove qualità psicologiche che sono emerse nella relazione e grazie alla relazione quindi possiamo dire che l'amore sano consente una apertura del nostro guscio narcisistico perché allarga la nostra identità lasciandoci condurre metaforicamente altrove rispetto all'io cioè nel nostro inconscio ora però se nel nostro inconscio ci sono dei vecchi traumi ci sono relazioni umilianti ci sono abusi è chiaro che tutto questo mondo fantasmatico interno verrà attivato dalla relazione ed emergerà con forza suscitando paure all'io suscitando resistenze nell'io e deformando anche un po la relazione la persona dipendente cosa fa ha delle profonde ferite e queste ferite non fanno vivere una relazione sana e allora possiamo affermare che la vita emotiva coincide con l'attività dell'inconscio l'inconscio stimola la nostra vita emotiva la nostra vita emotiva sarebbe lo strumento attraverso cui i contenuti psichici nascosti nell'inconscio emergono alla coscienza però nell'amore malato questo meccanismo è esasperato e l'oggetto d'amore appare irresistibile soprattutto quando non si concede soprattutto quando è sfuggente è oscuro e si nega e questa negazione dell'oggetto d'amore alimenta ulteriormente l'attrazione da parte appunto della vittima che si trova incastrata in un amore malato in una dipendenza quindi non cresce non si dilata la vittima risulta in valia di se stessa irredita in una passione divorante e in questa situazione il piano del potere sovrasta il piano dell'amore c'è troppo potere in questo caso parliamo di amore malato tra l'altro la vittima prova anche un senso di fragilità e una frase tipica di questi momenti è ho paura di me e ho paura di te questo dice la vittima e c'è solo un desiderio quello di uscire da questa tempesta emotiva senza senso perché tutto appare privo di significato tutto appare alla vittima confuso la vittima prova emozioni laceranti perché un progetto di vita in effetti è stato abortito e ancora non si intravede nessun'alba c'è solo la voce del silenzio assordante a questo punto la voglia che assale la vittima è quella di urlare tutta la sua rabbia perché all'impressione che per l'altro sia stato soltanto un gioco l'altro ha giocato con i suoi sentimenti mentre la vittima si è affidata ed è stata poi tradita si sente usata usata come un giocattolo rotto che all'altro ormai non interessa più ecco che a questo punto la vittima si chiede ma tutto questo è stato amore o l'altro ha cercato di soddisfare soltanto un suo bisogno questa domanda nasce dal fatto che la vittima non riconosce più la persona che gli sta accanto e non si rassegna chiede al suo traditore perché non riesce ad ascoltare il suo dolore la vittima vorrebbe essere ascoltata ma i due non si sanno più parlare non riescono ad aiutarsi a vicenda colui che un tempo aiutava oggi infligge le pene più dure e la sensazione è quella di impazzire perché il mondo della vittima diventa come dire un luogo buio e arido la persona vorrebbe solo sparire tra l'altro nessuno dei due in questo momento riesce a coinvolgersi in una relazione nuova tutto il mondo sembra sbagliato c'è posto soltanto per le lacrime e la disperazione una disperazione che inghiotte la voglia di vivere non c'è più voglia di lottare non si crede più niente nessuno niente è in grado di scaldare l'anima e si prova un senso di spersonalizzazione infatti arrivano pure gli incubi arrivano sogni caratteristici compaiono degli esseri immondi come i vampiri tutto questo descrive bene l'angoscia che vive la vittima le immagini sono gelide non c'è più fiducia in niente ed è difficile accettare che qualcosa muoia è difficile accettare la fine di un rapporto quando quello stesso rapporto è stato un tempo fonte di entusiasmo il dipendente affettivo la vittima vive una forte asimmetria si sente da un lato scivolare lentamente nella follia e sente un bisogno spasmodico di luce di aria ma intorno a sé trova solo buio e solitudine non sa più cosa fare e inizia a sospettare di aver vissuto un'illusione un colossale inganno questa è una sensazione terribile perché non riesce ancora a dire addio è molto difficile comunicare questo vissuto molto ad un certo punto anche la speranza svanisce non c'è più lotta non c'è non c'è ribellione la vittima depone le armi e questo è il lato drammatico dell'abbandono ma ma è proprio questa drammaticità che ci consente di conoscere le parti più oscure di noi stessi quegli aspetti difficilmente decifrabili poi pian piano il tempo passa il dolore inizia a placarsi una volta attraversato il deserto si può intravedere il senso di una storia e c'è un'arte sottile da apprendere l'arte di danzare con il dolore solo così quel dolore inizia a trasformarsi pian piano in tenerezza e quando compare la tenerezza siamo in grado di voltarci indietro e di sorridere della nostra inconsapevolezza di un tempo morale in psicologia non esistono errori tutto serve ogni esperienza è una iniziazione alla vita ogni esperienza ci aiuta a cambiare ci aiuta ad affrontare noi stessi perché per crescere veramente dovremmo risvegliare la nostra parte creativa questo è la parte creativa è il vero antidoto alla dipendenza affettiva è l'antidoto alla vulnerabilità ma che significa essere creativo significa chiudere una relazione ripetitiva e sterile ma non tanto con l'altro bisogna chiudere una relazione sterile con se stessi con noi stessi per uscire dall'auto inganno dell'idealizzazione dell'altro è il nostro compito trovare un senso alla vita che viviamo a questo serve l'istinto creativo affidarci del nostro inconscio che sa meglio dell'io cosa è utile fare questo significa che il vero vampiro quello che ci succhia l'energia non è là fuori ma è dentro di noi il vero vampiro in psicologia si chiama inconsapevolezza questo è il peccato dell'uomo l'inconsapevolezza delle proprie emozioni cioè l'inconscietà chiamiamoli dei propri fantasmi che significa tutto questo proviamo a concludere diciamo che chi vive un abbandono chi viene abbandonato dal manipolatore di turno o dal narcisista si trova veramente in estrema difficoltà emotiva ma questa difficoltà emotiva diventa una straordinaria opportunità per comprendere il proprio mondo interno in quanto le nostre difficoltà parlano di noi ci appartengono esprimono il nostro personale conflitto interiore e allora in questa logica gli ostacoli vanno usati come occasioni di liberazione tutto ciò che ci succede non è mai casuale almeno da un punto di vista psicologico perché ogni accadimento ci indica la via per risolvere il nostro eterno conflitto interiore bene io mi fermo qui e vi informo che faccio consulenze psicologiche online sia con le videochiamate sia consulenze telefoniche o via mail per cui se volete richiedermi una consulenza dovete scrivermi su whatsapp al numero 338 16 92 473 scrivendo come funziona la consulenza specificando il vostro nome cognome i vostri orari preferiti inoltre vi informo che ho scritto quattro libri che si trovano solo su amazon buona giornata